Per risponderti Riccardo mi ricollego a quello che avete appena detto, parlavate di momento di incertezza nei mercati, Brexit, Turchia, l'attentato e in un periodo come questo non solo la testa, se vogliamo semplificarla così conta, ma diventa fondamentale. Guarda, a costo di sembrare banale, ma quando tu fai trading, alla fine le decisioni di ingresso e di uscita, come operare, le analisi, chi è che le fa? Le fa il tuo cervello, c'è poco da fare. Guarda, noi conosciamo molto bene come funzionano i computer, come funzionano tutte le strategie, i pattern, studiamo a destra, a sinistra, sappiamo come funzionano i cellulari, l'automobile, la domanda però è questa, sappiamo come funziona il nostro cervello? Magari lo conosciamo un pochino, ecco, il cervello è proprio quello che poi di fronte al monitor decide lui, c'è poco da fare, quindi non è che diventa importante, è fondamentale, strategico e ti parlo per esperienza personale, ma quella che abbiamo fatto assieme a Marco, con cui abbiamo cominciato ancora qualche anno fa, quella che abbiamo fatto recentemente poi anche con Anna Resti, che ha vinto la scorsa edizione di T-Cup, quello che abbiamo visto proprio e prima l'ho sperimentato io personalmente, nella mia personale esperienza di trading, che cosa abbiamo visto? Che in effetti il salto di qualità, il balzano avanti, è certo che lo fai. Guarda, ti faccio un esempio, guarda, io mi prendo qua il cellulare in fianco, se adesso io mollo, apro la mano, il cellulare che fa? Casca, non può fare altro che cascare, perché? Perché la forza di gravità lo tira giù, ok? Non è che adesso posso mettermi a discutere con la forza di gravità e dire, ma guarda questa forza di gravità che ogni volta che apro la mano mi fa cadere il cellulare, magari se sono a un'altezza poi considerevole me lo rompe anche, ma guarda questa forza di gravità che continua, no? Sarebbe un po' stupidotto onestamente, o no? Beh, la stessa cosa succede poi con il trading, quando siamo di fronte al monitor il cervello funziona in una maniera ben precisa, ha delle risposte precisissime a seconda delle situazioni che succedono, ma se io non conosco queste situazioni, non so come risponde, vabbè me la prendo poi con i mercati, me la prendo con le mani forti, me la prendo con il mercato Grazie. Grazie. Grazie.